Ben trovati a un aggiornamento con la tendenza a media e lunga scadenza. Diamo un'occhiata all'avvio della prossima settimana. Il clima si farà più freddo, più invernale sulle nostre regioni dopo una prima decada di gennaio. Molto molto umite per correnti di Libeci e Scirocco. Andiamo a vedere più nel dettaglio. Infatti nel weekend perturbazione su molte regioni del centro-sud, probabilmente seguita d'aria più fredda in arrivo dal nord Europa. Soprattutto guardate la zona dei Balcani, correnti più fredde che interesseranno molte zone specie del versante adriatico del sud. Quindi temperature invernali ma un avvio di prossima settimana nel complesso più stabile, con maggior soleggiamento sull'Italia. Ma attenzione perché probabilmente nuove perturbazioni dall'Atlantico e dalla Francia potrebbero guastare il tempo nuovamente al centro-nord. Ma dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo.